carissimi fratelli sorelle amici cari pace buona giornata di benedica inizio nuovo mese per il quale siamo grati al signore e leggiamo insieme nella seconda epistola di paola e corinzia capitolo 5 al verso 21 dove è scritto che colui che non ha conosciuto peccato egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di dio in lui chi è costui che non ha conosciuto peccato e gesù l'uomo senza peccato perché ci dobbiamo ricordare che gesù è stato vero uomo ed è vero dio benedetto in eterno è vissuto su questa terra come un uomo mera perfetto perché era dio che si era fatto uomo e gli faceva sempre il bene non peccava mai né in pensieri né in parole né in azioni e giustamente poteva dire ai giudei e lo leggiamo in giovanni a capitolo 8 al verso 46 chi di voi mi convince di peccato nessuno poteva farlo e anche quando fu condannato a morire su una croce come malfattore molti hanno attestato la sua innocenza il traditore giuda il governatore romano pilato e la moglie il malfattore crucifisso con lui il centurione romano che era testimone della sua morte e molti anche nella folla che era lì presente mentre questo triste spettacolo si stava svolgendo non c'era in gesù alcun appiglio per il male nulla di quella concupiscenza che trascina l'uomo al peccato si presentava nella persona del nostro amato salvatore l'apostolo giovanni lo conferma in modo assoluto affermando in prima giovanni a capitolo 3 al verso 5 lui non c'è peccato il diavolo ha tentato gesù ha provato a spingerlo ad un atto di indipendenza dei confronti di dio ma tutti i suoi attacchi furono vani al momento di dare la vita quando era bersaglio di tutta la malvagità di satana gesù dichiarò viene il principe di questo mondo ma egli non può nulla contro di me leggete in giovanni al capitolo 14 al verso 30 gesù dunque si trovò a subire il martirio della croce senza che ne fosse meritevole egli in realtà in quel momento si stava caricando dei peccati dell'intera umanità e dio lo ha colpito e giustiziato al nostro posto proprio a causa dei nostri peccati e mediante la fede sappiamo che ha pagato in quel modo il prezzo della nostra liberazione e noi lo ringraziamo per la sua grazia e vogliamo chiedergli la forza quella forza che non abbiamo in noi affinché possiamo essere i suoi imitatori e possiamo perseverare fino alla fine ma se tu che mi stai ascoltando non hai mai sperimentato la grazia salvifica che non è l'adesione ad una religione o l'appartenenza ad una religione magari tramandata nella propria famiglia ma il pentirsi dei propri peccati il chiedere invocare il perdono a dio per il sangue che gesù cristo ha versato sulla croce il ravvedersi da essi e il decidere di abbandonare la corruzione di questo mondo per vivere una vita secondo la volontà del signore a te voglio dire stamattina che puoi ancora fare quella scelta la scelta di diventare per grazia un figlio o una figlia di dio si tratta semplicemente di andare sulle proprie ginocchia di presentarsi davanti al signore così come si è e di dirgli signore io non sono degno ma gesù sulla croce ha pagato anche per i miei peccati ti prego perdonami lavami purificami fammi essere una nuova creatura perché voglio onorarti tutti i giorni della mia vita spero che questa brevissima riflessione possa essere un motivo di incoraggiamento e di consolazione per quanti hanno già accettato cristo ma possa essere anche un pungolo per coloro che ancora non hanno fatto questo passo e si accontentano di appartenere ad una religione qualunque essa sia possa il signore benedirvi in questo nuovo giorno e accompagnarvi e accompagnarci con la sua grazia guardandoci dal peccato e dal male e aiutandoci ad essere fedeli a lui e alla sua santa e benedetta parola affinché quando egli tornerà noi possiamo essere tra quelli che entrano nella cielo nella gerusalemme celeste per vivere col signore per l'eternità dio ci benediche insieme grazie a tutti grazie a tutti